Ci troviamo con Marianna Caronia, presidente di Amo Palermo, per parlare di alcune cose, anzi abbiamo tante cose di cui parlare. Ma in primis vogliamo subito chiedere a Marianna Caronia di analizzare gli ultimi dati delle politiche che hanno visto il cantiere popolare, movimento cui militavi fino a qualche giorno fa, avere un risultato un po' magro rispetto alle regionali. Come interpreti questo dato? Sicuramente il disimpegno da parte del partito nell'appoggiare una candidatura al Senato del cantiere popolare è evidente perché i risultati numerici parlano chiaro. Un partito che comunque con grande difficoltà aveva affrontato le regionali perché comunque un risultato di 112.000 voti a fronte di quella che era stata la precedente affermazione dell'Udc sicuramente sanciva il fatto che il partito si era ridimensionato ma che comunque reggeva. Alle politiche il disimpegno a mio avviso è stato causato fortemente dal fatto che la scelta del leader Saverio Romano di candidarsi al secondo posto nel PDL ha lasciato margini ampi per un disimpegno nel votare invece quella che era la lista al Senato che peraltro contribuiva al premio di maggioranza che poi è stato raggiunto. Per cui è stata una scelta anche piuttosto miope probabilmente di molti dei quadri dirigenti del partito di non appoggiare in maniera sentita quella lista che avrebbe consentito alla formazione cantiere popolare di continuare a rimanere viva quindi ad avere una rappresentanza diretta dentro il Senato e non in diretta attraverso le candidature come dire di diritto di tribuna acquisite nel PDL ma che avrebbe sicuramente dato anche verve e spinta a un partito che stava sicuramente subendo un momento di sfaldamento. Sfaldamento dovuto soprattutto alla mancanza di confronto, alla mancanza di dialogo, alla incapacità di sapere cogliere quelle che sono le indicazioni che provengono dall'elettorato. Diciamo che il cantiere popolare era fino a qualche mese fa uno dei punti di riferimento dei partiti fortemente affermati in Palermo e provincia ma dalle ormai politiche possiamo vedere che comunque non è poi stato così? Beh in realtà fortemente affermati, devo dire presenti, direi più presenti che fortemente affermati perché a partire dalle comunali di quasi due anni fa il cantiere popolare si attestò su un valore del 6,17 mentre la lista di cui appunto sono stata l'artefice a Mopalermo si attestò sul 6,25, una lista civica che addirittura batteva lo stesso partito di appartenenza appunto nel quale io militavo, già comunque indicava una certa difficoltà nell'essere interprete dei bisogni della gente in maniera come dire così copiosa come magari lo era stato in passato. Io ritengo che queste motivazioni vanno scritte soprattutto all'incapacità di sapere cogliere le richieste che venivano dalla classe dirigente stessa, da una mancanza di confronto e dalla mancanza di iniziative che invece altri partiti magari hanno saputo invece maggiormente interpretare. Io personalmente con il movimento a Mopalermo ho cercato di essere riferimento anche dell'ascolto di tanta gente che chiaramente oggi vive difficoltà che spaziano dalle più svariate problemi occupazionali in primis ma anche problemi legati alla difficoltà di approcciare alla burocrazia nonché a problemi che riguardano il credito e problemi che riguardano un po' l'economia in genere. La possibilità di essere un punto d'ascolto, avere fisicamente un luogo nel quale incontrarsi e democraticamente anche discutere sulle possibili soluzioni diventa modo di aggregazione. Questo nel cantiere è mancato e purtroppo i risultati poi sono evidenti perché riuscire a, diciamo in maniera risicata, a raggiungere le soglie di sbarramento non lo considero come dire una forte affermazione ma una spinta casomai a migliorare. Purtroppo nelle politiche è avvenuto esattamente l'opposto. Ecco perché ritengo più che di aver lasciato un partito è che il partito ha lasciato me. Appunto a quest'ultima parola che hai fatto rivelimento volevo appunto chiederti, è notizia il fatto che ormai non sei più e non fai parte più del cantiere popolare. Ovviamente vogliamo comprendere le motivazioni nel dettaglio e spiegare un po' ai cittadini che hanno visto proprio in questi giorni sui giornali questa tua notizia. Sì, io ho deciso di, chiaramente non da sola, a seguito di incontri fatti con il direttivo di Amo Palermo e soprattutto insomma anche di coloro i quali mi hanno sostenuto da sempre nella mia attività politica o attraverso un dibattito fitto e animato che devo dire poi si è concluso all'unanimità con la voglia di uscire fuori da questo contenitore abbiamo scelto di abbandonare il PID perché questa formazione che io inizialmente sposai ripeto in un momento in cui era l'opposizione, assoluta opposizione a Lombardo quindi non assolutamente in una posizione di privilegio. Ricordando se ci permette che ha permesso che il cantiere popolare potesse essere un gruppo all'arse. Sì, la mia presenza dentro l'assemblea ha fatto sì che il gruppo parlamentare potesse constare di numeri che sufficienti per poter essere presenti proprio come gruppo. Peraltro devo dire che anche la mia candidatura a sindaco che io lanciai al cantiere che in realtà poi non è stata raccolta perché insomma ricordando quei valori di prima il 6,25 preso da me come Amo Palermo e il 6,17 preso dal cantiere popolare insieme avrebbero consentito probabilmente di portarmi al ballottaggio. In realtà il mio share come la percentuale che io ho raccolto come candidato a sindaco si aggirò al 7,5. È chiaro che in matematica insomma i conti tornano subito non c'è stata una reale coalizione che mi ha spinto fortemente per quella carica. E da lì sicuramente le prime avvisaglie. In realtà anche nel passato, anche quando da vice sindaco decisi e comunicai al partito ho la volontà di uscire fuori da quella giunta che non era rappresentativa delle esigenze della cittadinanza, pure io essendo stata molto onorata di far parte di quell'esecutivo perché ho comunque cercato di dare un contributo alla mia città, quando ho ritenuto che quelle iniziative fossero sistematicamente bloccate ho messo a conoscenza il partito che era opportuno lasciare l'esecutivo per non rimanere in qualche modo implicati in una gestione che non mi vedeva assolutamente concorde. Quella scelta non è stata assolutamente appoggiata, anzi devo dire che il mio successore del cantiere popolare era nella porta accanto pronto a sostituirmi nel momento in cui ho dato le dimissioni. Questi segnali hanno evidenziato qualcosa che io probabilmente volevo sperare fossero soltanto delle sensazioni che poi si sono rivelate amaramente vere. Cioè che il cantiere popolare non ha mai evidentemente voluto investire in un progetto politico che volesse guardare da un'angolazione diversa la politica. Il mio modo di fare politica è molto diretto tra la gente, assolutamente con un approccio molto pragmatico dove anche una parte importante viene affidata alla democrazia, quindi all'ascolto, non soltanto un ascolto che si traduce poi in consigli che diventano azione. Questo evidentemente non è stato compreso, ecco le ragioni per le quali ho deciso di lasciare il cantiere popolare. La storia ci insegna che solitamente quando si lascia un partito molti cercano quasi un paracadute e quindi di andare subito a fare riferimento a un altro partito. Per Anna Galonia in questo momento che scelte ha preso al riguardo? Ancora una volta le mie scelte sono un po' inconsuete, così come ho fatto quando mi sono stata eletta nell'MPA e quindi avevo la possibilità di stare accanto al Presidente della Regione, quindi al Governatore, ero stata la più votata nel Collegio di Palermo, definita dai media come il pupillo di Lombardo, ho deciso dopo sei mesi di lasciarlo andando all'opposizione. È chiaro che quella posizione mi costò in termini anche di fatica e anche di ripercussioni. Anche questa volta ho fatto una scelta che non prevede paracadute, non ho scelto di andare da nessun altro partito. La mia scelta nasce da un'esigenza di disagio, avvertita da me e dai miei elettori, nonché dai miei compagni del Movimento Amo Palermo, che è quella legata al fatto che noi anche senza un paracadute abbiamo una nostra identità, identità corroborata anche dalla presenza nelle istituzioni, ma soprattutto dalla voglia di fare. E quindi io non ho deciso oggi di traghettare da una parte a un'altra e quindi il passaggio, la più riuscita è legata a questo tipo di ragionamento, non c'è mercato di vacche, non c'è compravendita in atto, ho deciso semplicemente di cambiare un percorso che non mi vede assolutamente né partecipe, ma soprattutto non mi vede convinta, perché ripeto, anche la scelta di andare col PDL, soprattutto nella fase successiva, ha un risultato così scadente come quello delle politiche, andava sicuramente testato, discusso e argomentato e poi per carità avrebbe potuto anche trovare il mio consenso, perché non ho nessun preconcetto. Il tema è che dentro un partito, se manca la democrazia, manca il sale della politica e quindi non è opportuno operare in quel senso. Ho preferito prendere distanze, con Amo Palermo siamo una realtà e vedremo nel divenire ciò che avverrà, chi reterrà anche opportuno valorizzare questa forza, potrà e potrebbe diventare nostro partner nelle azioni future, ma non diventa una condizione sine qua non per fare politica. Più volte abbiamo sentito che ha fatto ritenendo proprio al movimento Amo Palermo. Ricordiamo che il movimento Amo Palermo conta di 10 consiglieri circoscrizionali, due consiglieri comunali, e più di 20 consiglieri nei comuni. Quindi una realtà politica consolidata, presente nelle istituzioni. Proprio questa è realtà. Come intende muoversi adesso? Quindi quali sono le prospettive future? Innanzitutto devo dire che la scelta di fuoriuscire al cantiere popolare è stata condivisa da tutti coloro i quali fanno parte del movimento Amo Palermo. Anzi, paradossalmente, proprio in un momento in cui, pur non essendo stata letta per pochi voti, io oggi non mi ritrovo a ricoprire nessuna carica istituzionale, molti soggetti impegnati in politica hanno dimostrato un certo interessamento nell'avvicinarsi al nostro movimento. Poiché l'azione che intendiamo porre in essere è quella di proposizione ai governi, alle amministrazioni, a secondo di dove ci troviamo. La proposizione che guardi, secondo quella che è la nostra ottica, è un approccio civico a quello che è i bisogni della gente, cercare di individuare le soluzioni ai problemi grandi, ma anche quelli pratici, concreti, di tutti i giorni. Cercare di essere propositivi anche nell'opposizione, perché noi siamo opposizione al Comune di Palermo, ma è un'opposizione consapevole e soprattutto responsabile. Pertanto noi continueremo a essere, diciamo, partecipi per quello che potrà essere il ruolo dentro le istituzioni, ma anche dall'esterno. Per esempio, presenteremo a breve dei disegni di legge di iniziativa popolare che richiedono anche la partecipazione della gente comune, proprio perché oggi un coinvolgimento della gente è qualcosa che i partiti hanno dimenticato. Grillo lo ha intercettato, a mio avviso, nella maniera peggiore, perché ha intercettato maggiormente la rabbia, seppur legittima, dando vita a un progetto che però è piuttosto scarso di contenuti. Noi i contenuti, penso di, insomma, abbiamo dimostrato di averli, ma soprattutto di volerli concretizzare. Proposte concrete, reali, che guardino anche alle situazioni effettive, perché comunque dire che tutto deve essere cambiato e va fatto in un giorno è facile, poi è chiaro che è piuttosto complicato realizzarlo. La nostra sarà un'azione di politica, intendendo come politica proprio la partecipazione dei cittadini alla risoluzione dei problemi quotidiani che riguardano il lavoro, l'economia, ma anche, proprio come dicevo prima, anche il semplice approccio alle istituzioni, perché molto spesso chi non è addentrato riesce, non riesce a penetrare quel muro di gomma che sono spesso la burocrazia e appunto le difficoltà burocratiche, così come potremmo anche, abbiamo immaginato, di strutturare sempre di più il movimento, dando anche dei ruoli ben definiti per far diventare questo movimento qualcosa di più. Quindi, nelle scorse regionali, oltre ad aver raggiunto il risultato che comunque ha superato le 7000 preferenze, ti sei collocata comunque seconda come donna più votata in Sicilia e notizia degli ultimi giorni il fatto che l'assemia regionale ha approvato una modifica alla legge elettorale che prevede l'espressione della doppia preferenza di genere. tutto questo secondo la tua visione delle cose, quindi come sempre sei battuta affinché si possa essere riqualificato il ruolo della donna in politica, come reagisce a questa novità? Beh, innanzitutto devo dire che chiaramente il risultato elettorale è stato delle ultime regionali non la considero una sconfitta bensì una, come dire quasi un gioco beffardo di una legge elettorale che sicuramente non premia la rappresentatività essere stata la seconda donna più votata in Sicilia ma paradossalmente la tredicesima più votata del mio collegio sapere che in assemblea regionale siedono tra gli scranni dell'assemblea appunto più di 68 deputati che hanno raccolto meno preferenze rispetto a me chiaramente mi lascia molto perplessa rispetto al fatto che la rappresentatività molto spesso fa diciamo alla peggio eh sì alla peggio perché è chiaro che insomma rappresento 7200 elettori che hanno creduto nella mia capacità di poterli rappresentare dentro l'assemblea detto questo considerato appunto non una sconfitta bensì appunto una una battuta dal resto quella che è stata l'esperienza delle elezioni regionali ritengo utile l'approvazione di questa legge che riguarda le doppie preferenze peraltro devo dire che anche se non è stata data particolare risalto questa legge aveva avuto già un momento di visibilità proprio nel 2011 io ho dato vita insieme alle due colleghe presenti a quel tempo l'onorevole Adamo e la Raya ad un emendamento alla legge elettorale che è stata modificata che modificava appunto la composizione dei consigli comunali e provinciali proprio perché si inserisse la doppia preferenza ricordo bene quanto io abbia battagliato in quei giorni per trovare un consenso in aula peraltro coinvolgendo soprattutto le parti sociali quindi sindacati le associazioni di donne mi ricordo benissimo ecco di incontri fatti promossi da me in sala rossa perché si potesse far venire a conoscenza le donne soprattutto anche quelle già impegnate in politica che ci fosse un'opportunità grandiosa che era appunto quella della modifica della legge elettorale evidentemente i tempi non erano maturi e devo dire che con un colpo mancino sotto il voto segreto la legge non è stata approvata proprio per una manciata di voti per appena 5 voti l'onorevole Greco ricordo bene allora chiese il voto segreto io mi scagliai violentemente contro perché appunto ritenevo che fosse doveroso quantomeno guardare in faccia i propri elettori quando si decide di imbocciare una legge così importante che comunque dà una svolta più alla cultura che non in realtà alla capacità di partecipazione delle donne in questo caso sicuramente testeremo quanto questa legge è utile e quanto va perfezionata io ritengo che sia un passaggio come dire necessario in termini di educazione civica appunto degli elettori a immaginare che anche le donne possono essere rappresentanti valide dentro i consigli comunali provinciali finito questo periodo io ritengo che questa legge dovrebbe cessare di esistere perché le donne in atto hanno delle forti difficoltà a essere candidate ma soprattutto votate ma modificata quella che è una reticenza culturale una nostra lacuna se vogliamo secolare legata appunto a concetti ormai assolutamente superati penso che potremmo assolutamente giocare alla pari con gli uomini evitando queste riserve indiane che devo dire non sono piacevoli per chi come me la fa la politica senza guardare all'appartenenza di genere ma la fa in maniera da singolo individuo abbiamo visto appunto negli ultimi giorni che molti argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea regionale sono stati comunque portati avanti anche l'età nella scorsa legislatura e quindi facendo riferimento anche alla legge della doppia preferenza di genere al mantenimento dei liti balneari per tutto l'anno appunto non smontando quindi non recando anche un costo esoso a quelli che dovevano poi rimontarli in estate quindi molte leggi ti senti un po' deturpato o derubate nel copyright di questi disegni legge no dunque in realtà rispetto alla doppia preferenza di genere sono estremamente contenta che la legge sia stata approvata ritengo che sia una legge utile soprattutto per modificare quello che è l'orientamento culturale della nostra terra che ancora probabilmente vive ecco un pregiudizio di genere non è vero che l'abbiamo superato ne ho avuto la piena coscienza quando nel 2011 da deputato propose un emendamento durante la modifica delle leggi elettorali affinché si introduscesse questa doppia preferenza allora evidentemente i tempi non erano maturi nonostante il grande coinvolgimento delle parti sociali sindacati associazioni di genere ricordo ancora una partecipata riunione in sala rossa di cui diede eco anche la stampa non sortì l'effetto sperato perché in aula sotto i colpi di un voto segreto che essi all'onorevole greco la legge non fu approvata per appena 5 voti devo dire che fu una sconfitta cosciente proprio perché mi sono resa conto che esisteva ancora anche tra i deputati un forte pregiudizio di genere quindi ecco la voglia che questa legge fosse riproposta era tra le mie intenzioni addirittura mi ero data una scadenza quella della prossima della successiva legislatura ahimè purtroppo non sono presente in aula ma devo dire che il fatto che l'abbia proposto un altro governo sia stata proposta approvata da un nuovo Parlamento non può che trovarmi contenta io ritengo che se si la opera per il bene collettivo per il bene comune al di là da chi ecco da chi venga proposta da chi sia il proponente di un'iniziativa il merito va a tutti perché ne beneficeremo tutti quando una terra fa una svolta in questo senso così come la nostra credo che avremo soltanto da trovarne beneficio per quello che riguarda i lidi ecco lì anche lì io ho fatto approvare un amendamento proprio l'ultima legge che l'aula dall'assemblea precedente quindi la legislatura quindicesima ha approvato riguardava anche una norma che faceva rivivere appunto la possibilità un comma che faceva appunto rivivere la possibilità di lasciare presenti le strutture portanti quelle più essenziali dei lidi balneari questo consentiva a circa 80.000 lavoratori del settore di poter continuare a sopravvivere perché una totale destrutturazione di una struttura per il successivo montaggio creava delle incombenze economiche tali da poter fare chiudere più dell'80% di queste attività che oggi dovrebbero costituire costituiscono in realtà una buona fetta della nostra economia se consideriamo che in Emilia Romagna i lidi lavorano quasi 9 mesi all'anno e hanno un mare che certamente non è della nostra qualità considerato che dovremmo puntare tutto sul turismo mi sembrava inconcepibile che si andasse contro una categoria così delicata ebbene questo emendamento poi diventò legge quindi ecco durante l'estate i proprietari dei lidi nonché i gestori hanno fatto distanza per non smontare sopraggiunto l'inverno ahimè l'amministrazione regionale nella qualità dei dirigenti hanno invece voluto piegare il volere del Parlamento e quindi una legge votata all'unanimità dando con una circolare interpretativa dando un significato diverso a quella legge questo di fatto ha imposto lo smontaggio di tutte le strutture ebbene qualcuno ha fatto ricorso al TAR e il TAR ha pienamente riconosciuto il valore della legge e quindi per fortuna tutti coloro i quali hanno gestiscono possiedono un lido non dovranno più smontare i lidi e quindi potranno continuare la loro attività iniziative come queste le ho fortemente perorate e continuerò a farlo seppur non all'interno dell'aula perché oggi credo che cercare di dare soprattutto a chi è dotato di buona volontà e ai giovani che hanno voglia di crearsi un futuro e che non pensano di dover gravare sulle casse dello Stato o Regione o Comune che sia dobbiamo cercare di aiutare coloro i quali anzi vogliono fare impresa soprattutto se si muove nell'ottica della valorizzazione del turismo che è una delle cose che dovrebbe darci maggiore diciamo slancio in termini economici se la politica non riesce a capire che anche iniziative come queste possono servire a creare economia a ridare incentivo e anche speranza a tantissimi dei giovani che vanno via le enunciazioni di principio rimangono soltanto enunciazioni io invece credo che la pragmaticità in questo caso delle donne forse è un valore aggiunto e continuerò a lottare in questo senso le battute finali possiamo fare riferimento a un grande costituzionalista che deve dire che per far politica non necessitava necessariamente avere un ruolo un ruolo istituzionale all'interno delle istituzioni un po' questo ci fa comprendere come qualcuno pensava che una volta perse le regionali chiudevi la segreteria e andavi a casa invece ne hai aperta un'altra stai continuando a portare avanti i tuoi progetti con Amo Palermo e quindi vogliamo dare un messaggio nelle potute finali su quali che sono gli obiettivi a medio e lungo termine che ti stai proponendo io in realtà ho sempre fatto politica sin da quando da ragazzina raccoglievo le firme nel mio quartiere perché si potesse fare una villetta comunale dove prima invece c'era un caseggiato che era invece nelle mani della mafia che poi fu espropriato e che quindi poi diventò bene comunale io ritengo che sin da quei momenti io facessi politica pertanto oggi non avrei ricoprire un ruolo sicuramente ecco mi dà meno visibilità magari ciò che faccio diventa un po' più complesso farlo conoscere alla cittadinanza o comunque alla popolazione ma al di là di questo ecco devo dirvi grazie oggi per questa opportunità ritengo che se si vuole fare politica e quindi se ci si voglia occupare del sociale e degli altri lo si può fare da qualunque posizione chiaramente il movimento Amo Palermo mi dà un grande stimolo anche perché ripeto abbiamo non in prima persona ma questo per me non è un problema anzi è una per me è uno stimolo maggiore c'è una squadra che lavora quindi non sono sola la squadra è presente nelle istituzioni palermitane al comune di Palermo per esempio e quindi ecco la possibilità di portare avanti iniziative che poi possono essere accolte anche da esecutivi che non sono del colore politico di appartenenza in realtà oggi non abbiamo più un'appartenenza partitica in assoluto ma anche se fosse ecco con soggetti che sono lontani politicamente ideologicamente ritengo che se si vuole operare per il bene troverà sempre sponda nel nostro movimento e anche me personalmente per cui la voglia di fare rimane mi auguro nel prossimo futuro ecco che soprattutto per le elezioni importanti che verranno mi riferisco alle europee le politiche le preferenze siano vengano diciamo ecco vengano reintrodotte per le politiche e che appunto si cominci un po' a far valere quello che è il principio del merito perché molto spesso queste leggi così inique come quella del Porcellum non consente ai cittadini realmente di esprimere ciò che pensano per cui molto spesso la rabbia fa da padrone e assistiamo a episodi come quelli delle ultime elezioni comunali politiche nelle quali un partito che poi non è un partito raccoglie consensi a Iosa senza che poi però questo poi si traduca in un'azione di governo concreta per cui ecco il mio augurio è che la democrazia rimanga un valore che costituzionalmente abbiamo per cui abbiamo lottato per cui i nostri padri sono morti continuiamo a batterci perché ci sia sperando che insomma ecco il futuro ci riservi qualcosa di migliore bene vogliamo salutare i nostri telespettatori e dargli appunto un saluto per la prossima grazie a voi grazie mille